Il organizzatore è lieto di presentarvi in uno spettacolo unico, dove tecnologie e musica si uniscono per dar vita ad un evento indimenticabile. Un intreccio di colori scalderà la notte, nello spavillante spettacolo piromusicale, realizzato per voi dalla pirotecnica Palmieri e Decandia da Apricena, del pirodesigner Nino Decandia e del pirotecnico Antonio Palmieri. Il comitato festeggiamenti Maria Santissima di Gerusalemme con la collaborazione di Supermercati Deco Giudicianni, Mangini Fusco, Supermercati Deco Martino, Paolo Fasulo Barber Class, Gio Gluc De Spar, Giacomo Garau, Olio Basilico, Safa Di Salvatore Digliucci, Pasciano, Pizzeria Il Monticello, Istituto Paritario Professionale Padre Luigi Monaco, Catusone Commercio, Iginio Parenite, Ragazzino Marmi, Natalizio Anna Impresa Edile, Ciraci Giovanni Impresa Edile, PM Progetto Ombra di Pasquale Paternosso, La Lampo Ecological Service di Giuseppe Nappa, Epic Shop Ferrazano Dell'Ona, Gianni Lamberti Airstylist, Studio Legale Fusco, presenta nello spettacolo più musicale dal tema No alle Guerre e ricorda di chi non so più e nulla la vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.